Primo supercolpo di mercato della Juventus, il fuoriclasse argentino Angel Di Maria è arrivato a Torino con un volo privato proveniente da Parigi. Per l'ex calciatore del Paris Saint Germain, venerdì 8 luglio, visite mediche, firma sul contratto annuale da 7 milioni di euro. Grande entusiasmo ovviamente da parte dei tifosi juventini attesi in massa venerdì mattina per il primo giorno da bianco-nero del calciatore. Primo colpo per un instant team, tanto desiderato dal tecnico Massimiliano Allegri. Il Fideo, che significa spaghetto, arriva alla Juve a parametro zero e rappresenta uno dei colpi da 90 portati a termine del club per garantire esperienza e qualità alla Rosa. E soprattutto tornare a vincere dopo un anno di astinenza totale. La notizia era nell'aria da tempo, ma la trattativa con Di Maria è stata lunga e a tratti estenuante. Alla fine, tanto atteso sì del calciatore, è arrivato un giocatore che ha lasciato il PSG con il record di miglior assist man della storia del club parigino.